La Guardia di Finanza di Cerignola ha scoperto tre laboratori clandestini adibiti alla preparazione di olio extravergine di oliva contraffatto e adulterato e sequestrato a oltre 37.000 litri di prodotto illegale. Le fiamme gialle hanno individuato in aree diverse dell'agrocerignolano tre capannoni in cui veniva prodotto olio che sarebbe stato commercializzato come extravergine d'oliva ma in realtà proveniente, come hanno documentato le analisi svolte dal personale dell'ARPA Puglia, da una miscelazione di olio di semi di girasole ad alto contenuto di acido linoleico con aggiunta di sostanze coloranti come clorofilla e beta carotene in misura superiore ai limiti ammessi per gli oli destinati al consumo alimentare. La miscela, stando a quanto ricostruito, veniva poi confezionata in taniche e lattine sulle quali erano apposte indicazioni attestanti la qualità extravergine del prodotto per essere poi commercializzate. Sequestrati tutti gli strumenti e le attrezzature utilizzate per il confezionamento, imbottigliamento e miscelazione dell'olio d'oliva contraffatto, tra cui 15 cisterne della capienza rispettivamente di 10.000 litri e 1.000 litri, pompe, aspiratrici, imbottigliatrici multiple, colini, etichettatrici, soffiatrici e miscelatori, assieme ad oltre 23.000 lattine da 5 litri recanti indicazioni olio extravergine d'oliva. Tre persone sono state segnalate alla procura di fozzo per commercio di sostanze nocive e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 2DS e devono rispondere anche di violazioni amministrative relative all'assenza di indicazioni sulla tracciabilità dell'origine e della qualità del prodotto alimentare.